Una piattaforma spezzina tra sindacati, imprese e denti per affrontare i problemi irrisolti e quanto verrà messo in atto dopo il convegno organizzato questa mattina dalla Wiltec della Spezia su Miglio Blu ed Economia del Mare che si è svolto nella sede dell'autorità di sistema portuale. È una prima tappa, una prima tappa importante perché è uscito, è uscita questa proposta da parte dei cantieri San Lorenzo, da parte di Perotti, di problemi che hanno gli industriali, che hanno le imprese, che hanno le attività economiche e noi pensiamo che sia giusto cominciare da questo, dal mettersi insieme e elaborare una piattaforma per portare alle istituzioni, a tutti i gradi istituzionali di questa regione, di questo paese, perché riteniamo che insieme possiamo costruire davvero qualcosa di positivo per il futuro. Ho notato negli interventi di questa mattina una grande sintonia di linguaggio e di obiettivi, quindi guardare il golfo nel suo insieme, salvaguardare le attività che ci sono e ovviamente non solo nell'ottica di conservarle, ma nell'ottica di progredire e di svilupparle. Si è parlato anche di due importanti accordi, probabilmente due, con Snam ed Enel, perché l'energia è stata al centro proprio del dibattito. Noi su quella che è la fase storica inaugurata dal Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa abbiamo adottato una serie di iniziative che sono rivolte a perseguire una transizione energetica nel segno della decarbonizzazione, della sostenibilità, del maggior utilizzo di energie rinnovabili. In questo contesto io ho sempre considerato una grande opportunità il fatto che alla Spezia ci fossero due grandi soggetti, direi capofila, nel campo della produzione e della distribuzione dell'energia. Una per il gas che è Snam, l'altra per l'energia elettrica che è Enel e quindi abbiamo in questi mesi avuto una serie di contatti e discussioni per definire degli obiettivi comuni, ovviamente riferiti al porto, per adottare nei prossimi anni delle iniziative di collaborazione comune proprio per raggiungere questi obiettivi. Siamo arrivati, direi, alla fine, quindi possiamo già fissare questi due protocolli, lo faremo nei prossimi giorni e sicuramente sono due passaggi importanti per il cambiamento della politica energetica del nostro porto. Dal punto di vista dell'accordo con LSGT da mesi ormai si lavora, a che punto siamo? Da mesi si lavora perché quando le cose sono complicate non ci sono mai soluzioni semplici che si raggiungono in poco tempo. Direi che però il lavoro si è svolto in modo positivo, possiamo definire, dire che siamo un po' agli sgoccioli e che quindi entro pochi giorni potremo comunicare il risultato di un accordo importante perché la concessione LSGT è un po' la madre di tutte le concessioni nel porto di La Spezia, da essa dipendono le conseguenze di tutti i possibili sviluppi delle infrastrutture a partire dal riuso urbano di Calata Paita, la costruzione del molo passeggeri, quindi è un insieme di questioni. Ovviamente lo spostamento della Maria del Canaletto perché l'oggetto della discussione è una inversione di tempi negli investimenti scelti dal concessionario fra l'ampliamento del Garibaldi e l'ampliamento del terzo bacino, quindi questo ovviamente in un ragionamento serio che va fatto fra concessionario e concedente ha comportato una revisione e quindi l'accordo che poi sarà, come si dice, propedeutico ad una revisione della concessione. C'è bisogno di infrastrutture, di parcheggi ma anche di servizi su questo territorio perché diventi davvero quel miglio blu e poi quella eccellenza che già la è in parte nella nautica dal punto di vista nazionale e internazionale. L'eccellenza lo è perché come dicevamo prima più del 50% delle navi da riporto sopra i 24 metri vengono prodotte in Italia e sicuramente la parte d'Italia dove si fa la gran parte di questa produzione è da Spezia a Livorno, quindi siamo eccellenza mondiale senza ombra di dubbio. I nostri concorrenti del passato, americani, inglesi, francesi, oggi stanno perdendo molto terreno rispetto all'Italia. Oggi penso che l'Italia possa essere considerata come la Germania nell'automobile, il primo paese al mondo per quanto riguarda la nautica e la riporto. Attenzione che ormai i nostri costi sono tali per cui non possiamo più produrre le cosiddette navi commerciali che venivano prodotte dai cantieri di Carrara piuttosto che da Limma Spezia perché queste navi non sono più neanche prodotte dai coreani, sono prodotte dai cinesi o addirittura dai paesi che oggi fanno una parte di lavoro, quello più povero per i cinesi, quindi Vietnam eccetera. Quindi il fatto di aver convertito l'industria dal commerciale al riporto siamo stati molto bravi, adesso occorre però che tutto quello che è lo Stato, quindi le istituzioni eccetera collaborano con velocità perché il problema del tempo è essenziale con l'occasione del recovery fund, che ci dà anche il denaro per farlo, per aiutare queste industrie locali che sono state brave nel essere prime al mondo e che un po' per caso, un po' per logica ci sono trovate nella provincia di Spezia ad espandersi sempre di più, quindi servizi, quindi disponibilità di territorio, di spazi. Abbiamo l'arsenale, allora se il governo centrale decide che l'arsenale o la maniera militare di Spezia deva svilupparsi perché strategicamente nessun problema, esiste che si sviluppi, ma se questo sviluppo è stato trasferito a Taranto per ragioni di Mediterraneo, di problematiche del Nord Africa piuttosto che del mondo arabo e allora gli spazi della maniera militare facciamo che queste aziende che sono già aziende che hanno una qualità, uno skill sul mercato per fare le più belle barche nuove facciano anche il refit, refit che dà da mangiare a tante centinaia, migliaia di persone a Barcellona, a Marsiglia e quindi sempre sulla costa del Mediterraneo, ma ai francesi e agli spagnoli, portiamoli in Italia. Noi qui non lo facciamo per un mero problema, spazi, non ci sono gli spazi, perché fare il refit di una barca da cento metri occorrono degli scali sia a terra che via mare di grandi dimensioni che non esistono. Come San Lorenzo avete anche investito molto in formazione, avete anche un'academy, però questa mattina ha detto che è una cosa che è veramente assaltata alle orecchie, non trovate i ragazzi per formare le classi. Sì, è un po' assurdo dirlo, ma è così, nel senso che facciamo molta fatica a reclutare i ragazzi dalla scuola e dall'università per fare i corsi. Corsi che sono tutti gratis, corsi su cui noi ci siamo impegnati per poter avere un aiuto finanziario dall'Europa ad assumere il 60% dei ragazzi che arrivano in fondo. Quindi tutto sommato venire a fare un cost post-universitario o post-scuola, quindi diploma nautico. In San Lorenzo vuol dire a 60 probabilità su 100 puoi avere un lavoro sicuro. Lavoro che diamo noi come San Lorenzo, ma che diamo anche tramite l'indotto, diamo tramite gli equipaggi che suggeriamo ai nostri clienti. Quindi esiste tutto un mondo, una domanda dietro da San Lorenzo e da parte della San Lorenzo che potrebbe essere soddisfatta. Molto spesso facciamo fatica ad avere un numero minimo per formare le classi. È un po' assurdo, ma è così. Quando si legge sui giornali che uno dei problemi più importanti dell'Italia è l'unemployment, la non occupazione dei giovani, che è un problema ovviamente gigantesco per tutto quello che riguarda il sociale, il futuro del paese, poi su Spezia abbiamo questo problema. Oltretutto i finanziamenti li abbiamo solo se prendiamo i ragazzi liguri e quindi di Spezia, per cui anche questo è un limite, secondo me è sbagliato, ma ci stiamo lavorando con i politici, con la regione, perché se non troviamo i ragazzi di Spezia magari andiamo a prenderli nel sud Italia, andiamo a prenderli in altre parti d'Italia dove magari questa disponibilità c'è. Fa male sentirlo dire, ma è un problema che ormai si ripete da tre anni. All'inizio pensavamo di avere un problema noi che comunicavamo male, dopodiché abbiamo incominciato a comunicare via social, siamo andati nelle scuole, abbiamo comunicato nei metodi, nei modi dei giovani, dei ragazzi che dovevano venire, ma di fatto non abbiamo migliorato più di tanto la situazione. Ma a che punto sta il progetto del Miglio Blu? Beh, intanto stanno finendo quelli del primo lotto, questo per quanto riguarda le infrastrutture che coinvolgeranno da Pagliari a Mugiano, il primo lotto finirà a Ruffino e avremo un Viale San Bartolomeo e zone limitriche molto riqualificate, molto belle. Poi c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto con il Forum Ambrosetti per fare la cabina di regia, il comitato di indirizzo, il comitato tecnico e studiare i progetti di innovazione e ricerca che servono al settore. È un'economia leader per quanto riguarda il nostro territorio in Italia ed è fondamentale coniugare l'innovazione, la ricerca e quindi il coinvolgimento dell'università, del nostro polo tecnologico e del distretto Ligure delle Tecnologie per aiutare le imprese a essere più competitive sul mercato mondiale da un lato e dall'altro creare prodotti innovativi, quindi anche in ricerca. Poi c'è il tema da sviluppare, quello della manutenzione, dei mega yacht che daranno occupazione e per questo grazie a Regione Ligure abbiamo portato un investimento di 3 milioni di euro in formazione per formare i nostri ragazzi, inserire il mondo del lavoro e quindi invito loro però a partecipare ai corsi perché la vera difficoltà in questo momento è trovare ragazzi o persone che vogliono essere riqualificati o qualificati e inserire loro in questo settore che è molto importante e dà grandi soddisfazioni. Poi l'ultimo punto è quello della subacquea, noi siamo leader mondiali da oltre un secolo e mezzo della subacquea, le più grandi invenzioni, penso agli scaffandri, penso a tante altre invenzioni che hanno coinvolto il mondo della subacquea, sono proprio nate alla Spezia, del nostro golfo e quindi anche qui un investimento in innovazione, tecnologia e in formazione per continuare ad essere leader e portare qua ricchezza, occupazione e sviluppo. La Spezia è leader nel mondo della nautica però anche attraverso i servizi, lei ha parlato di idrovolanti e di un biogolf. Beh sì, bisogna anche rendere piacevole in termini di servizi il nostro territorio, ad esempio lo studio sul biogolf servirà proprio per far sì che i mega yacht stiano più possibile ormeggiati nei nostri porti e diano soddisfazione, passatempo, voglia di divertirsi alle persone che frequentano e vengono utilizzate. Poi c'è il tema degli equipaggi che speriamo piano piano di portarli ad abitare qua perché sono una ricchezza incredibile ma a questo bisogna inserire anche collegamenti in termini di mobilità, ad esempio va benissimo il collegamento all'aeroporto di Pisa ma l'aeroporto di Luni deve essere sicuramente migliorato e potenziato a questo punto di vista e poi ci sarà la novità fra circa un anno e mezzo degli idrovolanti nel nostro golfo che collegherà la nostra città in un'ora praticamente con Milano, Genova, poco più di un'ora Roma, la Corsica, la Sardegna, quindi proprio per far sì che Spezia diventi un centro turistico è una base turistica importantissima quindi che vada oltre il tema attuale delle cinque terre, Portovenneri, Lerici ma diventi una sinergia il fatto di collegare questi territori con tutto il resto dell'Italia e dell'Europa. Al centro del dibattito poi il tema delle aree dell'arsenale necessarie allo sviluppo industriale ma anche il tema della transizione ecologica. Su questo punto la UIL guarda con preoccupazione al no del Consiglio regionale sul turbogas per la centrale Eugenio Montale. Ma noi siamo dispiaciuti perché ci sia stato questo voto unanime in Consiglio regionale perché riteniamo che Spezia sta perdendo un'importante opportunità di sviluppo perché Enel è sicuramente un partner importante, bisognerebbe coinvolgerlo nello sviluppo di quelle aree e dobbiamo evitare che si verifichi una seconda area IP nel senso che è lasciata allo sbando e senza averci fatto nulla. Spezia ha bisogno di aree, ha bisogno di opportunità, ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di crescere e non possiamo pensare che lo si faccia dicendo sempre di no. Bisogna sedersi e confrontarsi. Lei ha fatto un'affermazione forte questa mattina che la transizione energetica potrebbe trasformarsi in una desertificazione dal punto di vista industriale. Perché? Se si pongono solo dei vincoli fiscali i costi aumenteranno per le persone, si fa una transizione che è per l'elite, occorrono invece fare degli investimenti per produrre cose nuove, per cambiare l'industria. Altrimenti è una transizione che chiude quello che c'è ma non apre nulla di nuovo. Pochi giorni fa dal punto di vista del Consiglio regionale è stato detto un no secco allo sviluppo del turbogas al posto del carbone qui alla Spezza, nella centrale Eugioni-Montale. Lei come commenta? Se vogliamo comprare l'elettricità dall'estero ai prezzi che ci imporranno è la scelta più diretta. Io penso che dobbiamo salvaguardare l'autonomia energetica soprattutto se si vogliono aumentare i consumi elettrici e quindi la centrale a turbogas è il modo più serio per affrontare questo tema.